Meditazione significa che non c'è bisogno di inventare nulla. Il solo fatto di essere qui è già abbastanza meraviglioso. Non è qualcosa che fai, è qualcosa che puoi diventare. Se eviti che le tue storie ed aspirazioni creino ridicole fantasie, allora puoi meditare. Se poteste darmi un po' di spazi, potrei venire a interagire con voi. E' molto importante avere una famiglia sana, una società sana e un mondo sano in cui vivere. Io vorrei vivere in un mondo di beatitude. E voi? So, let's make it happen. Grazie. 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 Grazie.